Mi chiamo Cinatra, ma col sax, se lo vedi, anzi, questa è una... Ok? Vedi, col sax si direbbe sì, perciò è sì. È sì, comunque... Questo è un dono comunque che lo faccio a voi, a te l'altro padre Pio, a te Nicola, a tutta la struttura. Vi ringrazio di avermi ospitato, per me è stato un evento, il primo concerto che ho fatto ieri sera... Ecco, ricordiamo Claudio, mentre vediamo anche qualche foto delle tue diverse attività in ambito artistico, sei stato qui a San Giovanni in occasione del Natale in Grotta, questa è la iniziativa, di cui abbiamo parlato anche ricordando Tony Sant'Agata qualche minuto fa con la moglie Vanna, ma sei stato presente appunto per un concerto a margine di questo evento, in una realtà che è San Giovanni Rotondo, alla quale sei particolarmente legato, non solo dal punto di vista artistico per questo tuo concerto, ma anche e soprattutto perché c'è un Tredunione con il Tredunione, che è un campione dello sport. Certo, ma sai, io sono fraterno amico di Beppe Signori, ieri sera c'era anche lui, mi ha fatto da padrino in questo, perciò io con Beppe ho fatto il videoclip del trailer del suo film, che si chiama Fuori Gioco, che è su Sky, e il videoclip mio, se volete vederlo, è su YouTube, su Spotify, su Apple Music, si chiama Per Diventare Una Stella. Per Diventare Una Stella che è anche il titolo di un'altra iniziativa che vorresti ampliare dal punto di vista artistico. Sì, La Strada delle Stelle, che è il mio concerto che porterò in giro in tutto il mondo, come cantante italiano e all'estero, farò La Strada delle Stelle perché ripercorre tutte le stelle della canzone italiana, perciò tutti i nostri più grandi successi li portiamo nel mondo. Ecco Claudio, un legame con un campione dello sport che ti ha portato poi anche ad approfondire la figura di Padre Pio, a sentirla un po' tua, soprattutto dopo questa esperienza artistica vissuta ieri sera. Cos'è per te Padre Pio in queste battute di saluto che vuole essere anche un motivo per incontrarci nuovamente in futuro? Allora, io sono devoto a Padre Pio, per me Padre Pio è tutto quello che ogni giorno prego Padre Pio, è qualcosa che ti porta a Dio perché lui è la luce che ti incammina sulla strada di Dio, perciò per me è un faro, senza di lui non potrei più vivere. E dal punto di vista artistico fa riferimento a lui, è un motivo davvero che ci garantisce una genuinità. Guarda Riccola, ma questa è una cosa, tutte le cose vengono da là, molte volte non sei tu che le fai, perché sono dettate, è qualcosa di… io quando sono arrivato ieri, sono arrivato sabato, e non ieri, e ho sentito proprio quell'energia, quella… voi forse di qua la sentite ma molto meno, perché forse siete abituati, ma chi arriva è quella magia, è quella luce che ti porta… l'anima si arricchisce e il cuore è contentissimo. Claudio, abbiamo avuto almeno il piacere di salutarti questa mattina, di scambiare con te queste parole che sono una promessa di un ritorno nel più breve tempo possibile a San Giovanni Rotondo, anche per comprendere e capire quanto effettivamente sarà stata importante e bella questa strada che si apre ora con queste belle iniziative artistiche. Grazie di cuore, l'augurio di un buon Natale. Anzi, io voglio fare un buon Natale a tutti, un Natale di amore, di pace per il mondo, e bisogna sempre vedere la strada della luce perché è della stella che è Dio. Grazie, grazie Claudio, grazie a voi per l'attenzione e l'augurio di un buon proseguimento di giornata in compagnia dei nostri programmi.